Ben ritrovati amici di Pianeta Giovani, ancora una volta siamo qui pronti a raccontarvi le emozioni della categoria giovanissimi, che domenica 5 agosto si è sfidata nel primo trofeo Colombini a Pompiano. Organizzazione affidata alla ciclistica Pompiano, che ha messo insieme un circuito di 1100 metri completamente pianeggiante da ripetere più volte in base alla categoria di appartenenza. In questo momento vediamo impegnatissimi piccoli atleti della categoria G1, che procedono spediti verso il traguardo. Tutto è pronto per accogliere il primo arrivo di giornata, con la vittoria di Codenotti Simone della Ronco davanti a Fusi Massimo del Team Nuvolento, Poiani Gabriele Borlotti Simone della Monteclarense e Zeni Fabrizio Angelo della Springedi. Tra le bimbe vince Perani Maria Giulia della Ronco davanti ad Assolini Isabella della Monteclarense e Zanelli Asia della Springedi. Per sapere che cosa ci si metta, il segreto allora vi dirò qual è, la paella che ritmo stuzzicante, puoi ballarne quanto tu ne vuoi, ogni mossa è troppo divertente, mangi tutto e non ingressi quasi mai, è la paella, è la paella. Grazie a tutti! Grazie a tutti!